Devo ritalrare i pagamenti in funzione del ricevimento di pagamenti a parte di altri comuni, quindi lo stato di agitazione permane, come Di Piero ha pagato, però come Viano Marina ha effettuato il pagamento l'altro ieri, ci sarà bisogno di alcuni giorni per l'accredito, quindi permane lo stato di agitazione. Poi la tradeca tutto presente, altre problematiche, quali l'applicazione, secondo loro, ingiusta delle penali, quali il ritardo di alcuni comuni che continuano ad essere insolventi, alcuni addirittura non avrebbero mai pagato il servizio e questo argomento sarà affrontato oggi pomeriggio presso i comuni d'Imperia in quanto ho convocato tutti i sindaci del comprensore. Quindi lei cercherà di fare una pressione su questi comuni? Cercherò di convincere i colleghi sindaci a pagare, quantomeno a rispettare la normativa che prende il pagamento in 30 giorni e la fattura ricevuta per la prestazione fornita dalla fede, a prescindere dalle penali. Ma ad oggi perché non pagano questi comuni? Sinceramente non, però l'ho capito, dovrei capirlo, speriamo di capirlo poi ci pomeriggio.